Ciao a tutti ragazzi, come sapete sono... Iniziamo bene Ciao a tutti ragazzi, come sapete sono Chris07 Ben ritornati su Minecraft Ma facciamo... Allora, calma Ricominciamo tutto da capo Quindi creiamo un nuovo mondo E gli diamo il nome Mondo Per Per Yt, che vuol dire YouTube abbreviato E poi Le faccine Poi, comandi No, perché non voglio usare hack Cioè, non voglio usare cheat Non fa niente E iniziamo questo bellissimo mondo Noi ci vediamo quando avrò finito di costruire il terreno Ok ragazzi, siamo spawnati Perché siamo spawnati sopra un albero Non fa niente Allora, per prima cosa Come tutte le regole di Minecraft Se non lagga Prendere legna Ok Ok Ok, prendiamo altra legna Puff 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 Dai Steve Puff Ok Puff 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 Ok Andiamo in questa montagna Per vedere se c'è un Se ci sono degli animali da squartare Ok Per quanto lagga non riesco a fare neanche un salto decente Ok Non c'è nessuno Prendiamo questa bella crafting E facciamoci dei stick Poi Facciamo tutte le cose Gli attrezzi Visto che Facciamoci una spada di legno Un'ascia di legno E una pala di legno Che ci può essere utile Ops Ok Dopo aver fatto questi oggetti Riprendiamoci la crafting E prendiamo subito della roccia Per farci Appunto La fornace Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Otto Ok Quindi direi di farci subito Una fornace E mentre non si crafta Così Uno Due Tre E quattro Fornace Fatta Quindi Poi Appunto Ci riprendiamo Il coso E prendiamo altra legna Per fa Eh Altra legna Altra roccia Per farci appunto La spadina Spadina E il piccone Tre Quattro E cinque Quattro stick Passano E quindi Facciamo subito Gli attrezzi E scomparsa La mia crafting table Wow Grazie Minecraft Che mi fai subire I cra Eh Le cose migliori Quindi Rifacciamoci La crafting E poi Moriamo Ma perché Scompare Perché la montagna È corrotta Scompare Per quale Diam Perché la roba Perché I cosi Scompaiono Perché Lì ci sono Dei maiali E uno è sopra Un albero E uno si sta Per suicidare Che bel mondo Di Minecraft Si inizia sempre Tutto bene Ok Però ragazzi Vi dico Intanto una cosa Per questa serie Di Minecraft Farò Meno tagli Per Farò Ah Perché Sono ricomparsa Al momento Che ho fatto Che ho fatto Cosa Vabbè Facciamoci domande Facciamo finta Che non è successo Un bel cavolo Di niente Cosa No Ho sbagliato E cosa Perfetto Salto di qualità Quanto lagga Ok Andiamo qui Prepariamoci La spada Di legno Quanto lagga Raga Quanto Cavolo Lagga Dice C'è un maiale Prima Non l'ho visto E non l'ho ucciso Quindi Quindi mo Diamo le sculacciate A questo Maialino Che è un codardo Puff E vai Carne gratis Però intanto Ragazzi Col passare il tempo Proverò a risolvere Questo lag A quanto sta Ok ragazzi Aspettiamo un altro po' Direi Mettere a cuocere Queste Belle Costolette Di maiale E noi ci vediamo Fra poco Ok raga Eccomi Ritornato Con le mie Cinque Costolette Di Maiale E direi Di esplorare Un po' Uh carbone Carbone Ci serve Per fare Le torce Quindi Intanto direi Di farci Altri stick Ok Prendiamo Questo carbone Quindi Quattro E poi Quattro Ok ragazzi Concludo qui l'episodio Spero che vi sia piaciuto Scusate se questo Scusate se questo video È durato Cioè È durato poco Ma volevo fare un video Veloce E quindi Questo Era l'inizio Del nuovo mondo Di minecraft Per youtube E niente Ricordate sempre Di lasciare un bel pollicione In su Iscrivervi al canale Commentare E noi ci vediamo Al prossimo episodio Ciao Ciao